signori buongiorno e bentornati sul canale master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e io sono qui d'estate a fare video e fidatevi non potrei farlo se quella finestra non fosse aperta e quel ventilatore non fosse acceso e comunque fa troppo caldo nonostante il caldo dedichiamo anche questo mese di agosto come abbiamo fatto l'anno scorso ad analizzare per bene tutto il materiale che è arrivato per il mega riassunto e il mega dungeon che oramai sta diventando un incontro annuale della community del master kai anche se quest'anno introdurremo un paio di variazioni la prima di tutte che il materiale che è arrivato quest'anno è semplicemente troppo anche per fare un singolo video dedicato solo al riassunto di quello ci sono stati più partecipanti e soprattutto ogni partecipante ha mandato molto più materiale quindi analizzeremo la maggior parte delle cose non tutte e lo faremo un po per video per evitare di fare un singolo video di due ore che risulterebbe troppo pesante con la festiva intendo troppo pesante per me girarlo sia chiaro la seconda è che il metodo che ho utilizzato per scremare il materiale poi rifonderlo assieme in un'unica ambientazione coerente e in realtà lo stesso che abbiamo già visto nella serie l'anno scorso per chi non l'ha vista vi lascio qua su in alto il video ma non starò a rifare la spiegazione da capo perché oramai l'ho già fatta quest'anno ci concentreremo solamente sulle differenze rispetto a quello che abbiamo fatto l'anno scorso e avremo anche un altro paio di approfondimenti specifici di cui però cominceremo a parlare dalla settimana prossima questa settimana abbiamo già infatti tanto da vedere quindi andiamo a vedere i primi contributi per le fazioni degli uomini lucertola e dei nani per quanto riguarda la fazione degli autoctoni o degli uomini lucertola se vogliamo dirla più semplicemente gli elementi comuni arrivati coi vari contributi abbondano praticamente tutti quelli che hanno scritto qualcosa a riguardo hanno descritto la società degli uomini lucertola virtualmente come una società neolitica hanno un livello tecnologico bassissimo hanno un'organizzazione sociale rudimentale sono organizzati in piccoli villaggi ogni villaggio ha un capo che sia un leader guerriero un leader religioso e non hanno praticamente economia le poche cose che non producono da soli o semplicemente raccomandano in giro fondamentalmente se le procurano con una limitata forma di baratto cosa strana ma che può avere senso per un popolo non umano tranne alcuni riferimenti a pitture corporee o indossare piume vestiti rituali limitati praticamente nessuno ha mai parlato di quale sia il loro diciamo costume tribale per usare una parola complessa ma nessuno ha mai descritto gli uomini lucertola come in grado di creare qualcosa che non sia di utilizzo pratico immediato in pratica gli uomini lucertola non hanno arte questa può sembrare una cosa minore ma quando il master dovrà andare a descrivere gli ambienti ma anche per farsi proprio un'idea della fazione in realtà è estremamente importante dopo tutto per quanto siano creature umanoidi queste non sono persone normali non sono il classico popolo fantasy sono una cultura di uomini rettile che si è sviluppata per millenni forse anche di più in un ambiente totalmente privo di luce nelle viscere della terra che la loro architettura sia pensata per essere esclusivamente funzionale e tutto quello che fanno anche per il fatto della loro vita non è affatto comoda come detto sono cacciatori raccoglitori neolitici ha senso che si siano concentrati esclusivamente sul pratico ma per i giocatori che sono umani e gli umani anche all'epoca delle caverne passavano un sacco di tempo a dedicarsi all'arte probabilmente dà l'impressione di essere snervante un senso di freddezza immaginatevi di essere all'ospedale o di trovarvi in un enorme capannone ma completamente vuoto questo dovrebbe essere il senso di alienazione che dovrebbero avere i giocatori o perlomeno i personaggi giocanti quando visitano un villaggio gli uomini lucertola tra l'altro in più di un caso è stato fatto notare che la cosa vale anche al contrario cioè che gli uomini lucertola trovano gli abitanti gli invasori dalla superficie estremamente pacchiani sgargianti e chiassosi per loro sono quasi fastidiosi a vedersi perché non solo tendono a portarsi dietro fonti di luce cosa gli uomini lucertola evitano ma proprio hanno vestiti colorati parlano ad alta voce che è una cosa del tutto aliena per gli uomini rettile ci sono poi altri due elementi che sono usciti in maniera preponderante a volte singolarmente nella proposta a volte mischiati con altre cose il primo è che i nativi abbiano accesso a un qualche tipo di tecnologia lasciata lì dagli abitanti originali del mega dungeon anche se non siano del tutto in grado di comprenderla e anzi la vedono più in una maniera mistica che come una reale applicazione tecnica Andrea Donati ha parlato di steli che sono fondamentalmente dei tablet in grado di infondere conoscenza in chi li legge e di cool la vita che fondamentalmente sono complessi apparati di clonazione che stanno andando avanti in automatico per roccone il re casso sovrano degli uomini lucertola ha accesso ad armi ed equipaggiamenti magici di livello estremamente alto che sono stati tramandati nelle generazioni e recuperati da quello che c'era in giro nel mega dungeon l'altra cosa comune è che il sistema di riproduzione di questi uomini lucertola sia diverso da quello che ci si potrebbe aspettare da una normale specie umanoide e che questo porti in qualche modo ad avere una divisione in caste all'interno della loro società il caso più estremo è di nuovo Andrea che li vede come un'intera razza di cloni mentre Don Vecchi ha parlato di rituali in cui i giovani vengono accuratamente esaminati e poi in base a quali sono le loro caratteristiche migliori o comunque qual è la percezione dei sacerdoti su quale sarà il ruolo sociale migliore inseriti in un gruppo invece di un altro per molti altri invece la cosa è basata più su una sorta di adattamento al territorio con vari uomini lucertola che hanno un grosso dimorfismo gli uni con gli altri per cui tribù diverse che vivono in ambienti diversi sono fisicamente diversi tra i loro in maniera molto più evidente di quella che potrebbe essere la differenza di colore o di statura interna a altre specie umanoidi sia Don Vecchi che Calsi hanno poi aggiunto una cosa specifica cioè che in tra tutte queste caste e tutte queste divisioni esiste una casta speciale che praticamente mantiene il potere perché ha una conoscenza molto più ampia e approfondita di quella che era in realtà la situazione originale del dungeon e usa queste conoscenze che si è tramandata appunto per tenere sotto controllo il resto della popolazione Per Calsi è l'ospite pallido una sorta di simbionte che vive all'interno di alcuni uomini lucertola nutrendosi la loro energia in cambio dandogli poteri superiori a quelli degli altri Don Vecchi invece l'ha buttata più sull'orrore ctuliano questa casta ai sacerdoti a conoscenza di un qualche tipo di divinità o entità a cui sacrifica metà delle uova di ogni generazione per avere in cambio qualche tipo di potere o conoscenza ora se mettiamo assieme tutte queste cose l'immagine che otteniamo dei nativi è abbastanza particolare e si adatta bene per vari tipi di scenari vari tipi di missioni che il master può organizzare ora se mettiamo assieme tutte queste cose la fazione dei nativi acquista un'immagine abbastanza particolare pittoresca che va bene si adatta per vari tipi di scenari vari tipi di missioni che il master potrebbe voler organizzare manteniamo questo twist centrale dato dal fatto che la casta religiosa controlla tutte le altre può tornare utile per introdurre un colpo di scena anche nel caso i giocatori si alleano con i nativi qui mettiamo assieme quello che ha proposto Don Vecchion quello che ha proposto Calci cioè nelle profondità del secondo strato in una zona isolata esiste questa mitica città-tempio dei sacerdoti dove ogni generazione loro portano le uova che prendono dai villaggi per manipolarle in qualche modo che probabilmente non sarà affatto simpatico e diciamo che potremmo lasciare proprio la cosa sul vago sarà poi il master a decidere quanto orripilante o macrabro saranno i rituali dei sacerdoti degli uomini di Lucertola a seguito di questa manipolazione molte uova non sopravvivono e quelli che nascono hanno questa deformità per il fatto che sono diventati totalmente bianchi che era un'altra delle cose che state proposte cioè che i sacerdoti degli uomini di Lucertola fossero albini che a quanto pare è una citazione di Overlord che è talmente brutto che mi ero persino dimenticato della sua esistenza per adesso possiamo anche lasciare sul vago se effettivamente esista questa entità planare che dai poteri sacerdoti o se loro si siano tramandati alle conoscenze magiche fin dagli albori del dungeon e in realtà i loro rituali non abbiano alcuno scopo pratico ricordatevi che noi abbiamo già una misteriosa entità planare all'interno del nostro mega dungeon che è il sognatore che è quell'essere talmente enorme che vive in uno strato parallelo rispetto al resto del mega dungeon che però è stata descritta come un'entità abbastanza neutrale qua sembra che si vada sul malvagio andante potrebbe essere un twist del sognatore potrebbe essere qualcos'altro come ho detto potrebbe anche non essere niente vedremo di svilupparlo magari più avanti c'è anche da dire che riferimenti a entità e poteri misteriosi sono stati fatti anche in altre fazioni per esempio ne abbiamo nella fazione dei banditi alcune bande ai banditi si dice proprio che abbiano poteri misteriosi e tra l'altro abbiano dei membri che sono mutanti potremmo creare un parallelo in questo modo tra i rituali dei sacerdoti e i rituali di alcuni cultisti degenerati tra i banditi qui volendo potremmo anche riprendere quell'idea degli steli e dire che in realtà sono quelle che contengono gli incantesmi quindi in realtà le steli non sono altro che i libri degli incantesmi degli abitanti originari del dungeon o qualcosa di simile questi poteri dei sacerdoti potrebbero non essere di natura mistica ma di natura tecnologica anche se loro li interpretano con un misticismo l'idea delle caste come ho detto è buona per caratterizzare quindi oltre ai sacerdoti e i loro affari poco chiari la manterremo anche per il resto della società dei lucertoloidi più che creare caste sociali però ci torna molto più comodo utilizzare l'idea che i lucertoloidi si siano particolarmente adattati ad alcuni ambienti specifici all'interno del mega dungeon e infatti come avete visto poi nei video tra l'altro ve lo lascio linkato qua in alto questo ne abbiamo fatto nel primo video del mega riassunto comunque ogni villaggio di lucertoloidi è abitato da un particolare fenotipo adattato a un particolare ambiente sì sarebbe più comodo per gli incontri avere lucertoloidi diversi che lavorano tutti assieme questo però è comunque possibile ma ogni sottorazza o come volete chiamarla lucertoloidi potrebbe diventare una sua sottofazione con un suo ideale una sua necessità specifica e quindi dare più varietà ai giocatori su chi allearsi potrebbero effettivamente allearsi con i lucertoloidi dell'acqua ma essere avversi ai lucertoloidi cacciatori o magari potrebbe esserci un'epica quest in cui devono riunire tutti i villaggi quindi tutte le altre tre fazioni della società lucertoloide per scacciare i sacerdoti prima che non siano i sacerdoti a riunire tutte le fazioni e scacciare loro diciamo che sugli uomini di lucertola di materiale sicuramente ne abbiamo più che a sufficienza per organizzare un sacco di quest quindi andiamo a vedere un'altra fazione quando si è trattato di descrivere la fazione dei minatori in realtà tutti hanno virtualmente proposto la stessa cosa cioè che la principale forza politica all'interno di questa fazione siano i nani questa è una roba che era già uscita l'anno scorso quando non c'erano ancora le fazioni ma bisognava semplicemente descrivere l'ambiente tantissime persone avevano detto che a scavare negli stati più bassi c'è una colonia di nani o qualcosa di simile non tutti però hanno dato per scontato che i nani siano l'unica specie in questa fazione anzi sia Andrea Donati che Roccone hanno fatto espliciti riferimenti agli ignomi e ai genasi della terra questa è una cosa buona sicuramente la terremo perché introduce un po' di variazione interna alla fazione che torna sempre utile altro elemento che è stato proposto praticamente universalmente è quello che la fazione ovviamente si occupa principalmente di estrazione mineraria ma nello specifico i cristalli magici che poi vengono esportati fuori dal dungeon perché hanno proprietà particolari questo è un elemento importante nel terzo strato quindi era abbastanza ovvio che sarebbe saltato fuori Andrea Donati nello specifico si è soffermato a descrivere come la concentrazione di minerali di causa aree di magia selvaggia quindi l'estrazione di questi cristalli è un'operazione estremamente complessa che richiede tecniche di estrazione avanzate giustificando perché non è semplicemente che la gente scende e ti ha due piccolate e si riporta è una buona idea può essere sfruttata però potrebbe darci dei problemi in seguito per tutti poi la fazione non si limita a estrarre materiali i grezzi ma in un modo o nell'altro li raffina prima di rivendere la superficie e nello specifico sarà per l'ambientazione infernale del terzo strato sarà perché è difficile giustificare qualsiasi altra forma di combustibile per quasi tutti le forge, le fucine e gli impianti di raffinazione dei nani sono alimentati direttamente dal magma incandescente che estraggono dalle profondità della terra anche in questo caso sembra si sia venuta a creare un'immagine abbastanza coerente della fazione dei minatori quindi possiamo metterci a lavorare per trasformarla in qualcosa di specifico per questa ambientazione tutte le proposte prevedevano che la fazione dei minatori avesse un'unica enorme città e tutti venissero da lì quindi questa la manteniamo c'è chi l'ha descritta come un'enorme caverna all'interno del cui hanno costruito il villaggio c'è chi ha detto che in realtà è un centro amministrativo labirintico perché è stato regalavato all'interno delle stesse gallerie originali della miniera però se deve essere un'unica città per tutta la fazione ci serve qualcosa di veramente grandioso diciamo quindi che l'enclave dei minatori era inizialmente una miniera a cielo aperto quindi una specie di torta nuziale negativa se volete vederla così e man mano che i livelli più alti venivano scavati una volta esaurite le risorse venivano trasformati in centri amministrativi o zone residenziali quello che è quindi la città sarà letteralmente un abisso e man mano che si scende ci si avvicina sempre più alla zona di estrazione attiva ovviamente hanno avuto un sacco di problemi con i predoni questo lo abbiamo visto nei video quindi probabilmente l'orlo di questo enorme buco è circondato da una murata impressionante cosa che tra l'altro i nani sono anche molto famosi per fare abbiamo detto che hanno un livello tecnologico abbastanza alto perché le tecniche di scavo che utilizzano sono complesse quindi questa murata potrebbe avere qualunque cosa sia sufficientemente utile e appropriatamente tecnologica per descrivere l'ambientazione ne parleremo nel prossimo video meglio però potremmo dire che abbiano anche murate con cannoni e magari cannoni montati su rotaie potrebbero essere effettivamente estremamente avanzati e anche decisamente ben difesi ora per molti questa è un'enclave di nani alcuni però la volevano più cosmovolita e un'altra caratterizzazione su cui Andrea Donati ha calcato molto è quello che il ritmo di lavoro qui è massacrante prendiamo questi tre elementi e li mettiamo assieme per creare un po' di scompiglio nell'ambientazione come abbiamo visto nel video del mega di assunto originariamente quando la prima enclave di Derro si stabilì qui con loro c'erano rappresentanti di molte razze sotterranee tutti lavoratori in un modo o nell'altro legati alle stazioni minerarie però oltre ai Derro e ad altri nani c'erano orchi, goblin probabilmente in maniera minore vari abitanti di altre razze del sottosuolo e perché poi ci torna utile più avanti un gruppo di gnomi specializzati nell'ingegneria ora i nani sono famosi per la loro tenacia caparbia e per il fatto di essere lavoratori infaticabili questo è un tratto culturale importante per i nani ma non è qualcosa che possano dirsi di tutte le altre razze sotterranee quindi probabilmente non solo il lavoro di estrazione effettivamente massacrante ma i nani che erano poi quelli che finanziavano il grosso del progetto quindi i nani erano quelli che comandavano imponevano il loro standard di lavoro in miniera a tutti gli altri e diciamo che se tu non appartieni a un'etnia che abbia un bonus di costituzione questo potrebbe essere un problema probabilmente sto appunto questo i nani volontariamente o involontariamente stavano letteralmente ammazzando di fatica le altre razze che lavoravano per loro a questo punto aggiungiamo un elemento persone maltrattate lavoro faticoso diciamo che a un certo punto questi lavoratori hanno semplicemente deciso di entrare in sciopero sarebbe stata la cosa più normale da fare volevano condizioni di vita al migliore e i nani semplicemente non gliel'hanno date i nani ritenevano che erano pagati per fare il lavoro erano trattati come qualunque altro minatore nano quindi non hanno secondato le richieste ai scioperanti la cosa è degenerata l'abbiamo vista i nani tra l'altro sono persone estremamente intransigenti quindi ha anche senso che abbiano cercato di prendere lo sciopero di petto lo sciopero è diventato una rivolta i minatori sono scappati in questo modo abbiamo spiegato anche sia perché la fazione inizialmente era cosmopolita ma poi è diventata etnicamente molto più chiusa oramai sono rimasti i nani alcuni degli ignomi che condividono i loro ideali ma pochissimi altri e abbiamo anche giustificato la presenza di così tanti banditi delle terre selvagge in una zona in cui effettivamente c'è relativamente poco da rubare sono quelli che scappati dalla miniera hanno dovuto trovarsi un nuovo modo di vivere lì dove erano perché non avevano più le risorse né per restare non volevano tornare a miniera né avevano le risorse per andarsene e di conseguenza si sono dati al banditismo in questo modo abbiamo legato sia la fazione dei minatori che la fazione dei banditi gli abbiamo anche dato un'origine comune e questo ci aiuterà più avanti a questo punto è importante specificare una cosa nella pratica nessuna delle proposte ha mai parlato esplicitamente di una rivolta dei minatori quindi perché l'ho introdotta se avete visto i video è un evento estremamente importante nel materiale proposto per i coloni del secondo strato li vedremo più avanti ma cominciamo a introdurre l'argomento ci sono stati vari riferimenti che poi sono andati a caratterizzare l'intera fazione come in disaccordo con i governi di superficie proprio per via di una presa di coscienza di classe e un malcontento causato dalle condizioni servili in cui i coloni del dungeon venivano trattati ora tecnicamente questo non riguarda la fazione dei minatori ma dovete sempre ricordarvi che per quanto ogni fazione debba avere la sua caratterizzazione stiamo comunque parlando di un'intera ambientazione queste fazioni non esistono come elementi slegati gli uni dagli altri anzi più ci sono interconnessioni tra una fazione e l'altra meglio sarà e dato che questa è la fazione in cui veniva detto nelle proposte che è quella che è più pesante sui lavoratori proprio a condizioni di vita più estreme estrarre questi materiali al sottosuolo è estremamente duro e lavorioso se doveva esserci una scintilla di ribellione basata sul centro sociale di lotta di classe questo era il punto dell'intero mega dungeon dove aveva più senso inserirla in questo modo oltre ad avere una caratterizzazione e una giustificazione su perché i minatori e i predoni non lavoreranno mai assieme abbiamo anche un modo per legare i minatori alle fazioni del secondo strato e tecnicamente anche del primo questo servirà non solo al master per sapersi regolare su come i membri di una fazione si comporteranno nei spot di un'altra saranno amici, saranno nemici si ignoreranno a vicenda i personaggi giocanti potrebbero essere membri di una fazione quindi non è solamente per flavor può avere anche dei risvolti nelle meccaniche di gioco fondamentalmente il motivo è questo questo permette di legare tutto assieme e quindi anche prendere un elemento che apparentemente non era specificatamente per questo può essere utile da fare nel caso state scrivendo la vostra ambientazione ricordatevi di legare ogni elemento l'uno con l'altro fatta questa precisazione possiamo dire che per questa settimana la finiamo qua questa è stata proprio la presentazione del lavoro di base su due delle fazioni che ci sono state dalla settimana prossima cominceremo a fare le cose in una maniera un attimo diversa ma non vi rovino ancora la sorpresa si mi piace tenervi sulle spine fino ad allora come sempre se questo video vi è piaciuto mettete un like e condividete e ho avuto a crescere il canale scrivetemi qua sotto nei commenti quali sarebbero stati gli elementi che voi avreste preferito vedere in queste fazioni o meno o se magari avreste combinato le cose in una maniera diversa da quelle ho fatto io e perché l'avreste fatto così iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di discord al gruppo i telegram dove si riunisce la community al mastercae e dove io metto le notifiche manualmente e da dove saltano fuori i progetti come quello che vedrete in questi video per il resto io sono il mastercae e noi ci vediamo nel prossimo video ciao